Sono Alessio Vino, dottorando in Estima e Valutazione presso il Dottorato in Sistemi Intelligenti per l'Ingegneria dell'Università di Enna Core. E in questo lavoro, svolto con la professorissa Agampa, anche lei afferente alla Facoltà di Ingegneria e Architettura della Core, presento un'analisi del mercato immobiliare nelle città con sedi universitarie, focalizzando l'attenzione sull'impatto che le variazioni di domanda di immobili per affitto universitario hanno su quelle del mercato immobiliare e dei valori di mercato, per poi svilupparne le conseguenze sul rischio imprenditorale di investimento. In quest'ottica è stato scelto il caso studio di Enna e dell'Università Core, in quanto la domanda di immobili per affitto è costituita prevalentemente da studenti universitari. Tale significativa predominanza dell'affitto universitario, corrispondente ad una dipendenza dei valori immobiliari dalla domanda di studenti, consentirà una stima specifica del rischio degli investimenti immobiliari per l'affitto universitario. L'angolo visuale da cui questa analisi si muove si fonda sull'osservazione che, nelle città con sedi universitari, la domanda si può considerare quadri partiti tra lavoratori e turisti, extracomunitari e studenti universitari, e la consistenza di ciascuna di queste categorie è legata a fattori e indicatori eterogenei, quali il saldo migratorio per gli extracomunitari o il tasso di occupazione per i lavoratori, proporzionalmente connessi dal novero di chi si sposta per lavoro. È utile esemplificare il novero di tali indicatori su quattro città con sedi universitarie di grandi dimensioni, ovvero Napoli, Milano, Roma e Firenze. In tutti e quattro i casi si tratta di città con forte presenza turistica, pilda medio-alto ad alto, il che condiziona l'attrattività economica sul piano lavorativo, e tasso di occupazione in alcuni casi superiore alla media nazionale del 60%. In quartieri dove la presenza di sedi universitarie e studenti fuori sede è più consistente, si densia un incremento del valore medio del canone di affitto rispetto a quello riportato dall'UMI, con una maggiorazione fin quasi al 70% nel quartiere Bovisa di Milano. Nel caso studio che ci prestiamo a considerare questa maggiorazione sale ulteriormente. L'università di Enna Core è tra le più giovani d'Italia, fondata nel 2005, e le sue sedi sono state realizzate nella zona di Enna Bassa, circa a 300 metri di altitudine più in basso del tessuto storico della città. Quest'area ha così subito nel tempo una progressiva espansione, ed al suo interno si condensano la maggior parte delle case in affitto a studenti universitari. Rispetto ai dati visti in precedenza, il flusso turistico è decisamente più modesto, come anche il PIL pro capite, benché il tasso di occupazione sia poco più basso della media nazionale. Sotto il profilo demografico, dal 2013 si ha una decrescita netta della popolazione complessiva, e dal 2016 anche della popolazione straniera, che prima di allora stava lentamente crescendo. Come anticipato, il mercato immobiliare nella zona di Enna Bassa presenta uno scostamento significativo tra il valore del canone mensile riportato da OMI e quello reperito tramite il portale di intermediazione Coenea Affitta, istituito da una delle associazioni studentesche locali, con un incremento del 140%. Un'analisi dei dati storici sugli iscritti all'università reperiti presso il portale dell'USTAT-MIUR consente di fare una stima dell'effettiva consistenza di studenti fuorisede di anno in anno. In particolare, escludendo gli studenti residenti nelle province di Enna e della limitrofa Caltanissetta, oltre che il 20% dei restanti, si perviene ad un numero di 2017 studenti. Elaborando i dati ISTAT e Adobe Police sulla disponibilità di posti letto, e detraendo gli studenti alloggiati in appartamenti forniti all'ediente regionale per diritto allo studio, si giunge ad un numero di studenti in affitto pari a 1947, che vanno a costituire oltre il 50% degli affitti nella città di Enna. Nel quartiere di Enna Bassa, dove gli studenti fuorisede sono per lo più concentrati, si può considerare che la proporzione sia ancora più a loro favore. Pertanto è evidente che la domanda di affitto per studenti universitari ha un peso consistente sul mercato immobiliare di Enna Bassa. Tale impatto può essere compreso collegando le due tipologie di rendimento, secondo il principio del Build-Up Method. Partendo dai due esaggi di rendimento, corrispondenti alle due modalità di affitto, si può interpretare la loro differenza come un risk premium, ovvero scomponendo il saggio di capitalizzazione per immobili in affitto universitario come somma di un saggio di rischio minore, corrispondente all'affitto a lungo termine, e una maggiorazione di rischio necessaria per conseguire un reddito più alto. Uno sviluppo per gli ultimi dieci anni accademici mostra un incremento progressivo del risk premium nel corso degli anni, che si accompagna ad una progressiva diminuzione della domanda di affitto per studenti fuorisede, e tale correlazione esplica una riduzione progressiva nel valore del mercato degli immobili, che risente così in maniera diretta dell'andamento dell'università core in termini di numero di iscritti. A questo punto, per visualizzare l'impatto delle prestazioni di quest'ultima, è utile effettuare un'esemplificazione su una singola politica universitaria recente di forte impatto, ovvero l'apertura del corso di laurea in medicina e chirurgia tre anni fa, che porta, per i sei anni di durata fino a saturazione delle classi, in sé un incremento costante di 150 iscritti l'anno. Per isolare questa variabile, si è fatto un confronto con uno scenario virtuale, in cui tale CDL non fosse stato aperto, per verificare le ricadute sul mercato immobilare di questa singola policy. Si è fatta una regressione sul numero di studenti, escludendo gli iscritti a medicina per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, per ottenere lo scenario S2, e a seguire si è sommata la liquida di 150 studenti l'anno per ottenere lo scenario S1, e i fuorisedi sono stati ricavati in proporzione. Quindi si è utilizzato un modello di regressione semplice per ottenere il valore di R-star, utilizzando come variabile la riduzione percentuale di domanda, ottenendo i valori come stati per i due scenari, con una differenza di quasi un punto percentuale sul lanno accademico 2025-2026, che si traduce in una differenza di valore di mercato di circa 150 euro al metro quadro. Come si vede, questi valori tendono comunque a ridursi per il treno del decremento dell'università negli ultimi 10 anni. Se il saggio di capitalizzazione esprime già in maniera evidente il rischio in atto per l'affitto universitario, una sua più corretta stima può essere effettuata tramite l'indice del Value at Risk, rappresentativo del rischio per un investimento immobiliare, ovvero l'acquisto di un'abitazione nel restringere d'affitti nel quartiere di Nambassa, potendo quindi considerare valide le ipotesi per cui la domanda di affitti tenda ad identificarsi con quella di affitti universitari per le analisi effettuate prima. Si è adattata la formula del Value at Risk, che prevede il prodotto dell'investimento effettuato per il livello di confidenza e la volatilità, laddove, in questo caso, il livello di confidenza è legato al saggio di rischio e la volatilità alla delezione standard del numero di studenti fuori sede. Il risultato è un Value at Risk superiore al 10% del totale per anno. Considerando che il tempo di ritorno dell'investimento immobiliare per il mercato di Nambassa è strettamente legato al rendimento dell'affitto universitario, e dunque risulta pari a circa 40 anni, si può considerare che tale rischio nel corso degli anni produce una forte volatilità del capitale investito, andando quindi a rendere tale investimento poco appetibile. In conclusione, traspare il forte impatto sul mercato immobiliare nei contesti in cui quest'ultimo deriva la sua suscettività esclusivamente dalla presenza di una sede universitaria, la quale si pone come driver di crescita attirando una maggiorazione alla domanda, ma se a ciò non si accompagna una crescita generalizzata, può determinare forti fenomeni oscillatori sulla base delle sue variazioni della performance della sede universitaria, per mancanza di alte predi nel mercato. Tale volatilità si traluce, per il caso in esame, in una ridotta attrattività per la compravenita immobiliare a fini imprenditoriali. Il significativo valori al rischio determina una ridotta commerciabilità dei immobili, sconsigliando così la compravenita anche a fronte del lungo periodo di ritorno.